Un successo anche quest'anno, tantissime persone? Assolutamente sì, siamo contentissime, la festa è andata da Dio, non ci aspettavamo tutta questa fluenza, quindi cosa volere di più? Ringraziamo ovviamente tutti coloro che hanno partecipato, tutte le streghe, attrici che hanno recitato per questa ottava edizione, tutte le bancarelle che come promesso avevano qualcosa di Expo 2015 e tutti voi che siete intervenuti.